Hola a todos, eccoci qua, Time's Up. Oggi vi parlo di una storia collaterale a una vicenda di cui si sta parlando molto a livello internazionale e anche in Italia. Il protagonista della puntata di oggi si chiama Klaus Ennis Schulke. È un signore tedesco, ha 56 anni, nella vita fa il project manager, vive a Berlino e come hobby ha il triathlon. Voi mi direte, ok, che ha di speciale un project manager con la passione del triathlon? Presto detto. In verità nella nostra storia ci sono due protagonisti. Uno è Klaus, l'altro è leggermente più famoso, Eliud Kipkoje, il più importante maratonette al mondo, vincitore del titolo olimpico a Rio, si è replicato a Tokyo e detentore del record del mondo che domenica scorsa ha migliorato di ben 30 secondi. Qui sta la cosa interessante. Perché? Perché Kipkoje ha vinto la maratona di Berlino, ha stabilito 2-0-1-0-9 migliorando il precedente record di ben 30 secondi, registrato tra l'altro sempre a Berlino nell'edizione 2018. La particolarità sta in questo fatto. Come probabilmente saprete, non possono correre 42 km a 195 metri senza fare rifornimento e quindi ci sono le postazioni dove chi corre o prende al volo le borracce, beve e così può procedere nella sua maratona. Klaus Annie Schulke rifornisce Kipkoje lungo tutto il tracciato. Attenzione, non vuol dire che ha preparato le borracce il giorno prima. Klaus Schulke non fa parte del team di Kipkoje. Lui materialmente dà le borracce a Kipkoje lungo tutto il tracciato. E voi mi direte come fa? Ecco qua la cosa fantastica. Klaus sta a una postazione, fornisce la borraccia a Kipkoje. Appena gli dà borraccia, inforca la bicicletta e lo segue lungo il tracciato. Arriva alla seconda postazione e replica e così via. Lo fa per tutte e 13 le postazioni fino al traguardo. Praticamente si fa la maratona di Berlino in bicicletta. Nel 2018, quando Kipkoje ha stabilito il precedente record del mondo, Klaus ha fatto la stessa cosa. Infatti, voi avete due modi per cercare Klaus Annie Schulke. Il primo è scrivendo il suo nome. La seconda è utilizzare il suo nick, Battle Klaus, che è il nomignolo con cui è famoso nel mondo, o quantomeno relativamente famoso, nel mondo degli appassionati di atletica. Ma non è tutto. Io vi consiglio di guardare i video in cui Klaus fornisce le borracce a Kipkoje, perché sono straordinari. Non solo gli dà la borraccia, ma esulta, ma esulta proprio come un bambino a quella contentezza contagiosa che è fantastica, emozionante. Proprio lui è come se fosse la sua ragione di vita. E questa cosa io la trovo fantastica, ma veramente bellissima. Io vi consiglio davvero di guardarlo, perché è emozionante. Piccolo dettaglio di come Klaus è arrivato a questa cosa qui e poi lasciamo un attimo da parte tutto questo. Perché Klaus è arrivato a dare le borracce a Kipkoje? Klaus è un appassionato di teatlon, ma è anche dal 1998 parte del team di volontari che dà una mano per la realizzazione della maratona di Berlino. Per la precisione fa parte del team che fornisce le borracce agli atleti. Praticamente il giorno prima vengono preparate le borracce dai preparatori, tutta la parte a tecnica e queste borracce vengono date, segnate ovviamente col nome, all'organizzazione e i volontari le passano agli atleti. Comunque attraverso questa cosa Klaus è diventato il responsabile, visto che lo fa da tantissimi anni. Ha avuto occasione di conoscere Kipkoje e quindi si è creata questa amicizia tra loro due e Klaus è diventato il rifornitore ufficiale ogni volta che Kipkoje corre la maratona di Berlino. Tra l'altro attenzione, non è che lo fanno così, hanno fatto le prove, questo l'ha raccontato Klaus stesso. Ovviamente non è, ci deve essere una specie di armonia, di feeling. Allora per fare le prove hanno usato un vaso con dei tulipani che c'era nella stanza d'albergo. Kipkoje, ospite di uno dei principali alberghi di Berlino, aveva questo vaso nella stanza, hanno visto che la forma era simile alle borracce e hanno fatto le prove in albergo lui e Klaus. E questa cosa è incredibile, se pensiamo che parliamo di un maratoneta che detiene il record, il record che ha vinto due medaglie d'oro olimpiche, veramente già questo basterebbe. Ci sono due aspetti, il primo lo tengo da parte e riguarda Klaus, il secondo riguarda il record olimpico. L'ho detto prima, 2-0-1-0-9. Mancano solo 70 secondi al rompere la barriera delle due ore. Questa cosa in realtà Kipkoje l'ha già fatta, cioè ha già corso una maratona in meno di due ore. L'ha fatto nel 2019 al Prater, a Vienna, il parco, non lo stadio. Però questa corsa non era stata ritenuta omologata perché non basta correre quanto a due chilometri e 195 metri in meno di due ore. Servono determinate condizioni, anche meteorologiche. Ci deve essere un tot evento, il tracciato deve essere di un certo tipo, la corsa deve essere ovviamente ufficiale, omologata, non può essere una roba così... quella corsa viene fatta un po' spot, diciamo così, e quindi è il motivo per cui non è stata ritenuta valida. C'è da dire una cosa, anzi c'è da dire due cose. La prima è che negli ultimi vent'anni il record del mondo è stato migliorato sempre durante la maratona di Berlino, segno che comunque nella capitale tedesca ci sono delle condizioni favorevoli agli atleti. La seconda cosa è che solo Kipkoje è davvero vicino a rompere quel muro. Lo rendo con un esempio pratico. Le due corse olimpiche sono state vinte rispettivamente 2-0-8 e 44, 2-0-8 e 38, parliamo di solamente 6 secondi, comunque ben lontani dal muro delle due ore. E aggiungo, Stefano Baldini ad Atene vinse con 2-10-55, che è un tempo che a Rio sarebbe valso il quarto posto e a Tokyo il settimo. Quindi comunque in altre corse la distanza è ben diversa, per parlare di un essere umano in grado di correre meno di due ore ce ne passa ancora. C'è da dire che ci sono anche molti studi scientifici, c'è tutta una letteratura interessante che vi consiglio. Quindi anche su questo c'è molto da dire. Tra l'altro si sta parlando molto delle scarpe che migliorerebbero le prestazioni, quindi c'è tutta anche una polemica attorno a questo. Però la voglio togliere ritornando a Klaus. Perché? Perché Kipkoje ha raccontato questa cosa, gli hanno chiesto ovviamente di Klaus, lui ha usato una parola molto forte, ha parlato di eroe, Klaus is my hero, ha detto questa cosa, e ha sottolineato un aspetto. Lui ha detto che senza Klaus non sarebbe mai stato in grado di realizzare questa cosa, cioè di migliorarsi così tanto. E secondo me è questa la vera morale. Si parla tanto delle scarpe, ma non si parla del fatto che a volte le persone per andare oltre i propri limiti hanno bisogno magari di situazioni, di empatia. E forse è questa la grande cosa. È interessante davvero questo aspetto, che esistono dei punti di tangenza tra l'atleta e la persona comune, che si creano queste armonie, queste sintonie. E io credo sia questa la vera morale, sia questa la cosa emozionante. È l'entusiasmo di Klaus, è il suo contagio che colpisce anche il più grande maratoneta al mondo e lo spinge ad avvicinarsi sempre più a un record che sembrerebbe impossibile e che rappresenta un limite del corpo umano. Ma i limiti magari non si superano solo con le scarpe, si superano prima di tutto con le emozioni, con le cose che proviamo dentro e anche con persone come Klaus. Time's up termina qui, ma vi prometto che torno prestissimo con un'intervista molto interessante. Piccola anticipazione, parleremo di palla a volo. Chiudo qua. Grazie per avermi seguito.